Vuoi un'idea originale per i tuoi regali di Natale? Vieni da Heliograph in via Milano a Pesaro. Da noi puoi personalizzare con le tue foto, calendari, palline per l'albero, foto album, cuscini e tanto altro. Scarica l'app Quicklick, inserisci le nostre credenziali, registrati con i tuoi dati e direttamente da casa potrai creare regali unici e avrai il 30% di sconto sul primo ordine. Dal 1983 a Pesaro, Heliograph. Stampiamo tutto su tutto. Grazie a tutti.